Ragazzi, oggi non ci sarà nessun balletto perché ci sono solo lacrime, perché probabilmente dopo nove anni di lunga, di tanto tempo, vediamo se ci sarà un rigore, ma ormai ragazzi non ci interessa più, attenzione che non prendiamo un altro gol in contropiede, ci sono solo lacrime. Perché dopo nove anni, probabilmente diremo addio alla più grande Coppa del mondo, fa veramente male ragazzi pronunciare queste parole, ci sono anche delle lacrime perché stiamo perdendo 3-0 contro il Milan, ci vorrebbe dire un miracolo per andare in Champions League, bisognerebbe che Napoli perda un po' di punti, che sarebbe il quarto posto, sarà molto difficile. 4 minuti di recupero, domani vi aspetto alle 14.30 un nuovo video, stessa cosa alle 16 dove uscirà Rubri Cagliari e alle 18 gli immancabili pagelloni ignoranti, però intanto anche domani ragazzi è 14.30 uscirà un video anche sul secondo canale, però ragazzi fa veramente molto male perché vederci in questo momento fuori dalla zona Champions ci vorrebbe veramente un miracolo, partendo dal presupposto che questo 3-0 è immeritato, questo 3-0 è veramente immeritato perché è un po' troppo, non ci meritiamo questa batosta perché 3-0 è veramente troppo, non rispecchia ciò che è stata la partita perché veramente 3-0 è tanto, bisogna fare i complimenti al Milan che dopo otto anni ritrovano la Champions League, 8-9 anni, un grande Milan devo dire, hanno giocato con grande caratterizzazione, veramente bisogna fargli un applauso, però ragazzi rispiace per noi della Juve che questa sconfitta fa veramente male, addio Champions League, l'unica cosa che mi vengo da dire è il pallone alto, il tiro di testa, il colpo di testa, però ragazzi è mancata la Juventus, la rivoluzione Pirlo non c'è stata ed è un vero peccato perché io ci ho creduto, Pirlo non ha portato niente alla Juventus se non malesseri, è veramente molta tristezza da parte di noi tifosi, avevamo creduto in questo progetto però non è andato avanti, probabilmente domani ci sarà l'annuncio dell'esonero, suppongo che ci sarà l'annuncio di Pirlo esonerato, cross in mezzo è andato malissimo ragazzi, questa Juventus non gioca più a palla, non gioca più a pallone, i giocatori del Milan hanno già tutti in piedi, speriamo quantomeno di segnare il gol adesso della bandiera, cross in mezzo, vediamo di chi è il calcio ad angolo, finché non finisce questa azione ragazzi finisce qua, domani ragazzi probabilmente non uscirà il video previsto, ma uscirà un video della Juventus, cross in mezzo ancora ripattuto, il cross ulteriore ancora il tiro, ragazzi noi ci salutiamo, vi saluto dalla Champions League, usciamo dalla Champions definitivamente, dalla zona Champions come dei perdenti, noi ci vediamo domani, bello. e poi ci vediamo domani,